Sono Antunucci di chitarra, volevo presentarvi, quest'anno è una novità assoluta per la scuola, anche l'orchestra delle prime classi, che adesso suoneranno due brani. Il primo è Scarasula Marasula, è un brano del 600 del nord Italia, e poi la Barsanti Song, che è la composizione scritta dal professor Morelli, che eseguiranno tutte e tre le classi insieme. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.